Buonasera dal sport promotion Comasina dove va in scena la dodicesima giornata del campionato di serie B1 calcio a 5 di fronte i Re del Cuba contro l'Atletico Mica Santo. Vediamo che verrà meglio. Il destro il gol di Orlandi che sblocca la partita. Il destro e la palla in rete. Il pareggio del numero 11, Arcuri. Un po' di qua, un po' Bisognano. Sinistro al lato di Orlandi perde palla. Il destro ha tentato dalla distanza e la grande risposta in calcio d'angolo da parte di Locati. Poi il tocco. Sindoni ed è incredibile. Autorete per Acquaro e il gol di Arcuri. che pareggia la situazione. Il sinistro di Bisognano. 3 a 2. Re del Cuba. Bisognano. Il destro il gol. Bellissimo. Di Zoni. Il destro bellissimo. Di Orlandi. Il destro il gol. Bellissimo di Pizzalis. 4 a 3. Spazio che tocca per Orlandi. Sinistro. Salvataggio qui ancora Pizzalis. Orlandi col destro ed è strepitoso. Locati a mettere il calcio d'angolo. Parte Zambrella. 4 a 4. Di Atletico Micatanto. Attenzione. Orlandi col sinistro. 5 a 4. Atletico Micatanto. Straordinaria rimonta. Attenzione. Palla dentro. Non ci arriva nessuno. Finisce così. Finisce 5 a 4. Per Atletico Micatanto. Guadagna una vittoria straordinaria in rimonta. Sale a quota. 8 punti. E con questa però una vittoria straordinaria. Allora siamo qua con Fabio Zambrella di Atletico Micatanto. Oggi è una partita straordinaria. Tantissimi gol. Una vittoria che vi siete portati a casa con grinta, determinazione. Una rimonta pazzesca. Una vittoria del gruppo. Questa volta sì. Era tanto che volevamo e cercavamo questa vittoria. E troppo che non ce l'avevamo. Molte volte l'abbiamo sfiorata per poco. Stavolta abbiamo dato tutto. Nonostante eravamo in un finalità numerica. Una condizione fisica non è ottimale. Però siamo veramente contenti. Vedi che il vostro nome è Atletico Micatanto. Però alla fine in campo date tutto quello che potete. Sì, sì. Il nome rispecchia la tenuta fisica. Però a livello di carattere non veramente non molliamo niente. Potevamo avere molti più punti. Però nonostante fanalino di coda diamo il massimo ogni partita. E cercheremo di farlo fino alla fine. Perfetto. Questa vittoria può essere l'inizio magari di una serie di successi. Spero. Me lo auguro tanto. Speriamo e speriamo veramente che dalla prossima manteniamo un po' il ritmo. Perché vincere aiuta a vincere. Complimenti ragazzi e alla prossima. Grazie. Grazie. Grazie.